Ciao a tutti ragazzi sono Andrei dello staff di Let's Play FIFA www.letsplayfifo.it link pochino al facebook in descrizione e sono qui oggi con il Pink Slips Pink Slips di La Vezzi If l'alla sinistra è Paris Saint Germain in questa splendida versione con 86 di overhaul 89 velocità 82 di tiro 90 di ribling insomma un bel fenomeno qua questa è la squadra dove lo userò di solito uso squadrette invece oggi l'ho inserito in una squadra che già avevo quindi è un po' per di più uno squadrone e quindi beh mettiamo un Oier che è meglio di Valde in Feloria e aspettiamo il suo invito contro noi giochiamo contro Gianluigi Portoghese che è stato estratto sulla nostra pagina facebook link in descrizione e quindi aspettiamo che lui ci invita tipo XXJun14 o cosa del genere spesso e boh e speriamo di essere una bella partita speriamo di vincere perché mi pare che negli ultimi due Pink Slips conseguentemente li ho persi intanto ecco l'invito e quindi speriamo di non perdere il terzo e andiamo ad accettare ricevuti invito ad un gioco accetta G14NXX vabbè insomma si sa solo lui come si chiama caricamento dimmi non so proprio uh due tacche tre vabbè tre tacche che è quel centrocampo 58 che mi rappresenta vabbè gioca partita ma si andiamo a vedere che squadra 78 78 ora è bronze cazzo in tracosilva ibra roba nella viz cioè questo mette la viz perché lo vince e sostituisce il nif in pratica dio buono poi c'è mario god se lucas cec hummelz gundogan cec silvers sirigu chiss matuidi e in panchina lub vabbè sarà una bella sfidare a due squadre range di vari cost e quindi che vinca migliore si parte l'avezzi per golias maxim attenzione è partito il pocio il pocio sulla sinistra va l'avezzi c'è pichak su lui l'avezzi passa in qualche modo ancora l'avezzi tira madonna buona pichak attenzione robin si gira noyer meno male meno male la paratona di manuel l'avezzi dalla bandierina piribra buotenga lontana matuidi matuidi ancora noyer che parata grande manuel via la bandierina noyer non perché non è uscito l'ho chiamato attenzione ibra la palla rimane lì e buttiamo giù buttiamo giù meglio così attenzione palla filtrante c'è ibra se si addormenta sopra c'è ibra che è uscita di manuel ci salva ancora il culo a noi attenzione rogas incontro i pere è velocissimo ma no accompagna ibra perché non è accompagnato uffa maxime riguarda la palla maxime la finita maxime rollo sul fondo maxime attenzione maxime maxime va sul fondo lente secondo palo lava e si blocca e finisce qui il primo tempo yes 0-0 partita dove lui ha giocato un po' meglio però le occasioni si ne ha avuto ovviamente lui niente di spaventoso comunque nessuna clamorosa occasione beh beh si sei diritto a 2-1 vabbè meriterebbe forse qualcosa di più però a noi ci va bene così no quindi ricominciamo il secondo tempo attenzione la palla filtrante per ibra ibra pallonetto no ma che fai vai ma tu meno male che c'era botendo cagato di noia attenzione la palla filtrante per ibra ibra sis qua ibra spingi spingi a tiro scusa scusa veramente un gol di merda ma com'è com'è entrata no vabbè scusate ragazzi 1-0 attenzione filtrante la vizzi la vizzi la vizzi la mette per ibra blocca noia ibra su punizione ottimo mettiamo l'uomo sulla linea mettiamo ibra boom uh sul fondo meno male e qua rinvia noia a cercare ibra ibra prende la vizzi attenzione roben in trenare roben roben noia ancora ci salva il culo per la decima volta probabilmente oddio come si soffre 85 il cono della bandierina ibra ancora noia e poi noia super super noia prepara la hummels per tiago silva tiago sil il fancura 80s 1 1 meritato ibra attenzione e guarda cosa ha fatto a votare allora ibra 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 stanno a 0 tutta una vostra madre ibra fa 2 a 1 ti chiedi ibra adesso è bloccato cucù c'è nessuno connessione però a me quando si blocca non fa così quindi sarà saltata lui l'ottantanonissima che palle fatta la connessione del tuo versore si è interrotta vabbè abbiamo deciso di non giocare il minuto rimanente quindi vado a consegnare agli lavezzi anche se non gioco 89 minuti non 90 però l'ho deciso io quindi ci va bene così quindi terzo pink slip ci fa resto di fila questo perso in maniera quanto è non discutibile con due gol prese negli ultimi 5 minuti glio bono glio bono e e niente e quindi adesso offriamo per il suo ripatrice ho messo un milione di crediti ok offriamo per la scambio ok il mio solito il bidimini rimane che mi scopo di vendere puntualmente fai un'offerta ok va bene qua andiamo a vedere lui ci ha accettato l'offerta quindi anche per questo pink slip è tutto ragazzi oggi vi ho raggiunto i 3000 fan i 3000 iscritti grazie a tutti veramente è un terreno molto importante ci saranno dei video per celebrare i 3000 fan quindi non perdetevi se questo video vi è piaciuto lasciate un un mi piace iscrivetevi al canale al nostro forum alla pagina facebook iscrivetevi ovunque grazie per supportarci e noi ci sentiamo al prossimo video bye bye bye